Il signor Ibrahimovic, già sta andando oltre altri niti, non è che giocherà con Cavani, perché hanno preso Cavani? Ma arriverà un top player? Noi dobbiamo avere 11 top player, dobbiamo avere il top player, perché se tu non avessi avuto anche gli altri squadra, cioè Cavani, i 32 o i 33 o i 34 gol, non li dovrebbero mai fare.